Nuova convocazione nella nazionale italiana sbandieratori FISB per due sbandieratori del Borgo San Panfilo, Filippo Figurilli e Michael Gasbarro, insieme ad altri 18 sbandieratori provenienti da tutta l'Italia, sono stati infatti selezionati dal CT Francesco Gorini per lo spettacolo in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni della fondazione della FISB che si terrano ad Ascoli Piceno sabato 11 marzo e domenica 12 marzo. Grande la soddisfazione del direttivo del Borgo San Panfilo e in particolare del capitano Paolo Alessandroni. Da quando siamo entrati a far parte della FISB abbiamo fatto tanta strada e ho visto i nostri ragazzi crescere in maniera esponenziale, dichiara con soddisfazione Alessandroni che riprende tanto sudore e tanti sacrifici che stanno dando risultati importanti. Avere in gruppo sbandieratori che sono meritatamente entrati nel giro della nazionale danno lustro alla nostra associazione e non possiamo che essere felici di avere in gruppo atleti di questo calibro. I due ragazzi si aggregeranno già oggi alla nazionale che è fiore all'occhiero della FISB. Nella giornata di domenica una rappresentanza di musici sbandieratori del Borgo San Panfilo raggiungerà Ascoli Piceno per partecipare alla parata che attraversare il centro storico della città alla quale parteciperanno tutti i gruppi italiani aderenti alla FISB. Le nostre congratulazioni vanno a Borgo San Panfilo, orgoglio di Sulmona d'Ascoli.